Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattatio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Firenze Sud in uscita provenendo da Roma e in entrata in direzione Bologna fino alle 6 di lunedì 13 febbraio. La A12 per lavori possibili code tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Traffico regolare sul resto della rete stradale ed autostradale della Toscana. Su raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. La viabilità cittadina a Firenze in via di Novoli per lavori alla rete del gas. Strada chiusa fra via Valdinievole e via Allori. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.